Jasmine Carrisi. Bichini da urlo. La scritta vicino al seno fa sognare. Jasmine Carrisi indossa un bichini da urlo nella sua ultima foto su Instagram. Ma gli occhi sono tutti puntati sulla scritta vicino al seno. Cosa significa? Jasmine Carrisi non smette di stupire con i suoi scatti su Instagram. La figlia di Albano e Loredana Lecciso sta pian piano conquistando il suo pubblico e con il suo primo singolo sta già scandalo le classifiche di visualizzazioni. La Carrisi ha di recente ammesso la sua più grande paura. Ma non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Con il suo ultimo scatto su Instagram ha però incuriosito i fan con la sua scritta sotto il seno. Jasmine Carrisi. Il bichini è hot ma cosa significa quella scritta sotto il seno? Jasmine Carrisi si gode la fine dell'estate con un bichini a dir poco hot che stupisce davvero tutti. Nello scatto si vede in bella mostra un particolare tatuaggio sotto al seno. Romantica in rivolta. Questa la scritta che Jasmine ha postata anche nei gironi scorsi nelle sue storie Instagram. Una romantica in rivolta alla bella Jasmine. Che dimostra di avere un carattere forte e deciso. Ereditato probabilmente da mamma Loredana Lecciso. La sua più grande fan. Questo non è l'unico tatuaggio della figlia di Albano e Loredana. Che sfoggia anche una piccola rosa sul polso destro. Jasmine Carrisi non smette di stupire i fan. Aveva infatti anche un piercing all'ombelico. Aveva questo piercing all'ombelico ha svelato Albano io le dicevo sempre di toglierlo. Che rischiava l'epatite C. Proprio per questo motivo Albano ha aggiunto. Oggi mi è passata vicino. Le ho alzato la maglietta e mi sono accorto che lo avevo tolto. Uno dei più bei regali che tu mi abbia fatto. Nella foto postata da Jasmine Carrisi possiamo notare che il piercing è sparito. Sembra infatti che la giovane abbia preferito accontentare papà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.